Sbloccati circa 3 milioni e 800 mila euro da destinare alla ricerca scientifica e ai servizi per l'agricoltura e la zootecnia. E' quanto è stato deciso oggi all'Arse con l'approvazione della legge sui enti agricoli. L'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici esprime soddisfazione per l'approvazione della norma sul rifinanziamento delle leggi di spesa in agricoltura predisposta dall'assessorato a ramo. Il disegno di legge prevede lo stanziamento di 2 milioni e 500 mila euro per l'ARAS, l'associazione regionale allevatori siciliani, 1 milione e 360 mila euro per il Corfilac, il consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia e 400 mila euro per i consorsi di ricerca. Per la somma da destinare all'associazione allevatori è stato modificato il criterio di pagamento, che aumenta dal 40 all'80% la quota di anticipazione da parte della regione, mentre la parte di cofinanziamento dello Stato verrà erogata direttamente all'ARAS una volta stanziata. Questo permetterà di semplificare i pagamenti e di evitare intoppi di natura tecnica e procedurale.